Amici, ci avviciniamo a questo punto, all'ultimo gioco di oggi, quello più interessante, più frizzante, più succoso, quello con un'interazione della chat e quindi vostra. Click Holding! Benvenuti su questo gioco che ha bisogno del mio nickname. Avrà fatto l'accesso? Non lo so, scrivete delle cose sporche. Ciao Nighi! Chi lo sa se avrà fatto l'accesso? Iniziamolo! Bello, quest'uomo già non mi piace. Sì? Salve, desidera? Sporco! Chissà qual è l'interazione... Sì, signore? Sai perché sei qui? In realtà no! Cliccalo! Ma... Cliccalo ancora! Sto cliccando, signor! Bene! Continuo a cliccare. Quanto devo cliccare? Io che ci guarda negli occhi, caspita! Ciao, bua! Sei un cliccatore esperto, eh, signore? Non so quanto mi sono... Mi sono allenata nella mia vita. I soldi sono vicini. Mmm... 14.000 dollari, cash! Ah, grazie! Ma per cliccare? Wow, spaccimma, ma... BAM! Quel counter si resetta a 10.000 click. A 10.000? Quando si resetta, tu avrai soldi. Questo è l'accordo. Ma io clicco tutta la vita! Clicco! Ah! Ah! Non so se saresti venuto da solo. Signore? Va bene, alzati. Ok, mi alzo? Come mi alzo? Come mi posso alzare? Signore? Ah! Vai alla finestra. Ok. Apri le finestre. Ok. Voglio vedere cosa si prova. Fare cosa? Un po' di varietà. Ma cosa che significa? Aiuto. Inizio a cliccare. Ma perché mi sento un po' sporca? No! Non mi piace. Scusa. Chiudi le finestre. Ah, scusami. Non ti piace con le finestre accese? È stato terribile. Eh, effettivamente manco a me piace con le finestre accese. Aperte. Continua a cliccare. Non lo faremo mai più. Ma... Varietà! Cos'è il bagaglino? È tutto ambiguo. Non ho capito, ragazzi, voi che cosa potete fare con l'interazione di Twitch. Io sto continuando a cliccare. Sono a 400 click. Signore, le piace come clicco? Le piace? Vuole che lo faccia ancora? Sta, sono esperta. Eh? Ho imparato per una vita intera. Sia onesto. È la tua prima volta? Non è mai la mia prima volta. Ho cliccato così tante volte. Signore, lei non ha idea. Ho un mouse completamente consumato. Lo vuole vedere? Se vuole io lo faccio vedere. Le faccio vedere il mio mouse. Le piace? Vorrebbe? No? Non vuole. Quel clicker significa molto per me. Lo sai? Eh, lo so. Siamo stati insieme per un sacco di tempo. Ah, non lo so cosa sono quei click. Forse i click che state facendo voi. Cioè, tutte le volte che scrivete click, ragazzi. Però non posso cliccare come clicchi tu. Eh, serve esperienza, signor. Serve esperienza. Sì, ragazzi, sono i click che scrivete voi. Sono i click che scrivete voi. Il modo in cui ti forma. Ti piace? Non è vero? Sono i vostri click, raga. Fa caldo qui. Troppo caldo. Ragazzi, potete contribuire ai click. Cosa devo fare? Devo accendere il condizionatore? Accendo un attimo il condizionatore. Mmm, molto meglio. Continuo, capo? Clicco, clicco, clicco. Ragazzi, cliccate. No, però voi siete di più. Non è giusto. Arrivo prima io. No, 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 ragazzi. Ma meno. Guarda quel disegno della trigre. Tigre. Dove? Ok, adesso continuo a cliccare. Ah, godo. Godo. Sembra felice. Ah, sì, signore. No, raga, ma perché siete arrivati a 500? Come cazzo avete fatto? No, più... Adesso la tigre è viva e riposa. No, più vicina io. No. Mi sta venendo il dolore. No, ragazzi. No. Devo vincere. No, clicco più veloce di voi. No. Devo alzare. Vai nel... Eh, dai! Ma loro non hanno la pausa. Vai qui. Ok. Così. Mi piace. Clicca. Ah. Ciao, Nick. Ciao, amici. No. Ma vi siete raffresciati il click? Vi siete raffresciati il click? Come mai? Perché stai scrivendo a volare, a volare, a volare, a volare, a volare, a volare, a volare? Che significa? È la prima volta che faccio una cosa del genere. Ah, siete arrivati a mille. Come cazzo siete arrivati a mille? No, raga. Ma come siete arrivati a mille? Come siete arrivati a mille? Fa freddo. Maronna, vai io, però ho avuto tutti i vizi. Sto perdendo le sensazioni. Cambia il termostato. Ho cambiato! Mi lasci andare? Mmm, meglio. Maronna, che rotture palla. Bene. Non smettere di cliccare. Ah! Le piace così? Ti piace? Bastardo! Clicco più duro se vuoi, eh? Non mi farò battere da voi. Dai! Ma come cazzo è possibile? No, raga. No, no, no. Ma io non ci credo. No, io non ci credo. Ci credo! Mmm, spegni l'allarme. Questo? Adesso clicca. Sì! Capo! Capo! Eh. Dai, ma siete arrivati a 2.000! Non so cosa mi stessi aspettando. Continua. Non è giusta questa cosa. Dovevo dirvelo un po' più in là. Il fatto del click. Non mi piace questa cosa. Non mi piace questa cosa. Ma voi potete spammare con la tastiera! Io devo cliccare! Spammate anche le frasi che scrivete perché sennò non le leggo. Ho letto qualcuno che scriveva Katia, però non ho letto altro. Aaaaaah! Ma io devo arrivare a 10.000? Aaaaaah! Mancano 8.000! Ragazzi, sei bravo a farlo. Wow, signora, proprio espertissima. Lei non ha idea di quante volte ho cliccato. Sto morendo! Ragazzi, sto morendo! Puoi dare di tutto quello che... Set autoclicker. Ma non ce l'ho! Mi piace vederlo. Ti piace? Ti piace? Guarda come clicco bene. Non è un nudge su scema. Fatti vedere come clicco. Guarda, guarda. Non ho letto. Ho letto soltanto Katia, Pippo e Baudo. Ragazzi, dovete spammare. Ma passate 10.000? Ma vincete voi se passate 10.000? Premi spazio. E ma è lento! Sei soddisfatto con la tua vita? Guardi, dopo questo no. E questo lo vedi? Ci sono dei... Dei cagnolini strani qui. Tutti abbiamo delle domande. Ma basta cliccare! Ragazzi, prendetevi una pausa. Non volete un caffè? Dai! E ognuno porta le proprie... Signore? Sembra una buona scommessa, ma... Che problema ha? Noi siamo soli. No, signore! Io sto cliccando, però! E io ho tutti questi soldi. Mi vanno a fuoco le mani. A te! Comunque... Non ti devi preoccupare di questo. No, 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 no. Questo non ci ammazza. Accendi la TV. Subito. Tutto quello che vuole. Le piace farlo con la TV accesa? Ok. Adesso continua. Va bene, capo. Le piace? Mi piace il white noise. Vabbè, ho capito. Ma metta su una smr. Setti una macro click. No, ragazzi. Ah, sembra che nemmeno Dio riesca più a sentirti. Se sei abbastanza silenzioso. Saremo silenziosissimi. Ho un click super piccolo. Io lo rompo sto mouse. Lo rompo sto mouse. Ah, le piace? Le piace così? Continuo? Vieni qui. Ok. Eccomi. Adesso continua a cliccare. Va bene. A quanti state voi, raga? È bello. Guarda come gli piace. A quanto state voi? Oddio, io non sto nemmeno a 3.000. Devo arrivare a 10.000. Mi sono perso. Madonna, ragazzi. Io devo arrivare a 10.000. Posso chiedere a Bellotta. Che begli occhi. Tipo 3.000 e passa. Oddio. Torna indietro. Ancora? Che palle però questo. Per 14.000 dollari. Io sto cominciando forse ad avere dei problemi. Adesso clicca. Clicco, clicco. Oddio. Io posso chiamare Bellotta. Mi piace quello che vedo da qui. Eh, mi fa piacere. Mezzo all'oscuro. Mezzo alla luce. Ah. Come godo. Gli devo chiedere a Bellotta se mi dà una mano. Oddio. Ti giuro, sto soffrendo. Ti prego, Bellotta, dimmi che sei vivo. Bellotta, sei vivo? Sì, perché? Sei occupatissimo. No, dimmi. Puoi venire un attimo. Certo. Grazie, corri. Stacco. Lo trarrò in inganno. Devi darmi una mano. Sto soffrendo. Fa troppo caldo qui. Sì, questo mi è rotto il fravaglio. Temperato? Va bene così? Fa freddo? Non freddo? Temperato? Cosa vuoi? Temperatura? Va bene? Che due palle. Ok, fa freddo. Vuole il freddo. Stiamo facendo una sfida. Dobbiamo arrivare a 10.000. Tra me e la chat chi ci arriva prima? Ogni click che scrivono in chat c'è il counter. Come lo faccio con due dita? Ma che sono una signora intelligente. Sto soffrendo tantissimo. Devo far salire il numero. Bravo, bellotta. Ragazzi, sto facendo tutto io. Ah, clic, clic. Clic, clic. Ehi, ehi, si è bloccato. Aspetta. Deve entrare in bagno. Come in bagno? Ma che palle. È chiuso. E io che ne so. Chi ce l'ha la chiave? Ha bisogno di una chiave? Pausa chiave, ragazzi. Sì, però io mi sono slocata un polso. Guarda quelli. Quelli continuano però. Non è giusto. Cioè, non è normale questa cosa che loro possono continuare e io no. Via, 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 via. Non è vero, non ne ha fatto nessuno. Voglio clic che tu clicchi in bagno. Maronna, sì. Sì, voglio sentirlo. Va bene. E' il fammi entrare però. Sei dentro? Sono dentro in bagno. Sì, capo. Ah, oddio. Ah, sento il clicchettio. Ti piace? È bello. Guarda come gode. Però le mie mani. Che vuole fare con le mani? Sono malato. Veramente malato. Non pensavo che mi avrebbe fatto così male. Ma è così, ragazzi. Hai le mie mani. Le mani che avevo io. Ma perché lui non ha le mani? La chat fa talmente nevoce che nessuno si accorgerà che sono una banana. Invece io me ne sono accorta. Le tue mani. La memoria. Questo è un pervertito. Un po'. La mia memoria non è più buona come un tempo. Chiedo un sacco di foto. Faccio un sacco di foto. Ma poi che fetish è? Il fetish di farmi rompere un polso. Oh. Non voglio cliccare come vorrei. Eh, guarda quando si ammoscia il clic. È un casino. Ciao, Noemi. Spegni la tv. Va bene. Spengo la tv. Posso? Riesco finalmente a sentirmi pensare. Non è una cosa buona necessariamente. Comincio ad avere paura di questo essere. Accendi la tv. Oh, senti. E prendi un po' E... Dai. Allora. Continua con la televisione accesa. Chi entra in questo momento sarà molto confuso. Credo proprio di sì. Non so quando riguarderò di nuovo la televisione. Ragazzi, siamo a metà strada. Avevo un sogno una volta. Io ho un sogno, ed è quello di finire questo gioco. Vedere un uomo su una sedia. Così forte. Così pulito. Ma che sta a dire? Non riuscivo a muovermi. Ma mi adatto. Click, click, click. Ragazzi, tutti i click che scrivete... Per chi è entrato adesso e si sta chiedendo le cose, sappiate che tutti i click che scrivete in chat saranno contati nel counter che c'è a sinistra. Credo che chi arriva 10.000 prima è più forte. Però voi siete dei bastardi perché siete di più. Qualcuno mi stava guardando. Quell'uomo era perfetto. Ero lì da ore. Mentre mi guardava. Mentre non potevo muovermi. Oh, santo cielo. Ma lei non è che mi deve raccontare tutte le assoli della sua vita? E quando lui se n'è andato... Ho fatto questa maschera, però... Ah, è una maschera? Tu pensa. Io pensavo che fosse la sua faccia. Era così vicino. Sì, raga, ma voi siete troppo più veloci. Ciao, Sky! Avevo bisogno di un posto tranquillo, pulito. Ma per fare cosa? Per mettersi la maschera? Dove nessuno mi poteva fare delle domande. Comincio a piangere i miei soldi, comunque. Un posto dove qualcuno non poteva urlare e rovinarlo. Ah, quindi non io. E queste stanze. E un sacco di cose non ci entrano. Ragazzi, è inutile che scrivete le cose, perché tanto non le leggo. Lo sentivo sulla mia pelle. Qualcosa di tutto ciò è sbagliato. Ma come è sbagliato? Che sto a 5.000! Clicca altrove. Posso cliccare da qui se vuole. Le piace? Le piace? No? No? Qui. Qui! Clicca qui! Lo faccio! Bene! Oh sì, sto godendo! Siamo a 5.000! Ho freddo di nuovo! Mi è abbuffato la wallera. Cambia la temperatura. Sì! Va bene? È un po' meglio. Ok. Torno! Ciao, Miss Croft! Clicca, clicca! Continua a cliccare. Ragazzi, altri 5.000! Altri 5.000! Solo altri 5.000, Katia. Sei arrivata a metà. Solo altri 5.000! Sei arrivata a metà. Non puoi farti battere da nessuno. Sta cambiando rating questo gioco. No, ragazzi. No, 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 no. Io non so a che punto siete voi. A quanto stiamo? Noi non lo so. Prima finiamo, prima sarai pagato. Madonna, voglio i soldi incontanti a casa mia. Cioè, deve venire veramente a darmi i soldi incontanti sul serio. Ciao, Noemi! Clicca più lentamente. Va bene così, capo? Sto cliccando più lentamente. Le piace? Le piace? Più piano. Bravo. Più piano si riesci. Ok, clicca come vuoi. Non è giusto! Non è giusto! A me fa cambiare la forza. Forza! Di clic! Dai che siamo a 4, 5, 5! Oh sì! Oh sì! Cliccherò così forte, non farti sentire nemmeno più le dita! Vieni di nuovo qui! Che palle! Vicino a me! Arrivo! Va bene! Clicco! 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 Fa caldo qui! Comincio ad avere un certo calore! Clicco! Clicco! Uh! Che tempaccio fuori! Clicco! Clicco ancora! Ragazzi, posso cliccare più forte di voi! Posso cliccare tutto il giorno se è necessario! Oh, santi numi! Ragazzi, mi romperò il polso! Guarda di nuovo alla tigre! Ma che palle, signore! Lei c'ha dei fetici strani! Adesso clicca! Non sfidarci! Vi sfido! Stavo pensando a cosa! Mi faccio arrivare almeno a 6.000, capo! Mi piace quel quadro! Anche a me! Sto sudando! Qualcuno mi porta una spugna! Credo che sia il mio quadro preferito in questa stanza! Ma due ce ne sono, signore! Oddio! Oddio! Dai! Oh, mi sta per svenire la mano! Qualcuno chiami una maniere! Mi piace come mi sento qui dentro! Il suono del clic! Ancora e ancora! Sembra un estratto di 365, comunque! Ed era un po' che non cliccava così tanto! Mi sembra proprio che sia al suo posto! Senti queste robe! Raramente! E più ti fai vecchio, meno le senti! È molto sporca questa cosa! Sei sempre perdendo tempo! Girati intorno alla stanza! Va bene! Clicca da qualche altra parte! Qui va bene, capo! Qui! Qui! Adesso! Clicca! Sì! Sì! Ancora! Funziona! Va bene! Oh, santo cielo! Oh, sì! Sto facendo un muscolo! Ragazzi! Io sto sudando! Ho il fiatone! Non guardarmi! Va bene! Mi giro! Anche se stai già guardando via! Oddio! Non girarti! Che senso non girarti? Così! Guarda via! Ok! Guardo via! Uh! Devo bere! Girati di nuovo! Va bene! Sei al capo! Così! Oh! Ma non ci saremo arrivati noi? Ma non lo so! Non credo! Non credo! Non credo! Ragazzi! Secondo me siamo a... Siete a 7.000? 8.000? Questo... I soldi sono sotto il letto! Dovresti saperlo! Ah, sì! Ciao, Power Muffin! Non... Non sto bene qui! E che devo fare io? Io? Cambia di nuovo la temperatura! Questo ci ha boffato veramente la wallera, comunque, eh! Aspetta un attimo! Sì? Va bene! Funziona! Ma vaffanbrodo! Lasciami stare! Oh, santo cielo! Oddio! Che cosa veramente strana per una persona che entra adesso! Cocomero, aspetta! Risparma la frase, perché non la posso leggere, altrimenti! Leggo appena! Leggo appena! Moderatori! Moderatori! Mettetemi la modalità rallentata! Così vi inculo! Non ti giudico per essere qui! Siamo entrambi qui, d'altronde! Vero! Vero! Mettete la modalità rallentata! Moderatori! Sì! Sì! Ah! Sfermati! Fermati! È così? Così cosa? Vicino! Siamo così vicini! Aspetta! Jokes on you, sono VIP! Bastardi! Aspetta un attimo! Eh, così mi prendo un attimo! Chi è il venduto? Nessuno! Non farò mai i nomi! Aspetta di arrivare al numero preciso! Qual è il numero preciso? Così! Va bene, vado via! Mi vuoi abbracciare? Sì! Sì! Ah, va bene! Sì, ma non è giusto! Va molto bene! Oddio! Ok! Era una bella roba! Che occhi profondi! Ok, continua a cliccare! Oh, santo cielo! Ne mancano 3.000! Ne mancano 3.000! Siete bloccati! Ma siete tutti VIP! Bastardi di me! Siete tutti VIP! Non è giusto! No! Squall! No! Dai! No! Consentilo! Dai! Non è giusto! Non è giusto! Clic! 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 No! No! Consentilo! Consentilo! Non è giusto! Non è giusto! Mi avevano bloccato il click! Ah! Oddio! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Ti senti così tutto il tempo! Non è vero? Io mi sento morta! Una roba speciale! Bella roba! Ah! Sembri una persona come me! Questo mi fa sentire meglio! Non è così? Siamo a 8000! Bello! Sta finendo tutto! Tranne te! Io non finisco mai! Sono lunghissima! Però io sono pulito! E forte! In modi che tu non saprai mai! Signore anche io ce l'ho pulita e forte! Ah! Le onde dentro di me romperebbero chiunque! Va bene! Spostati! Dove me ne devo andare? Clicca altrove! Qui va bene? Sto cercando di sentire qualcosa! Che vuoi sentire? Qualcosa di diverso! In bagno? Vuole che clicchi in bagno? Signore! Non in bagno? Dove devo cliccare? Signore! Lì! Lì sembra giusto! Dai! Però mi ferma lui! Va bene! Vai! Oh santo cielo! Vi giuro non vi lascio andare! Non vi lascio andare! Oddio! Mi sta avvenendo veramente un cagotto! Clicca più lentamente! Io a questo lo sparo! Smettetela di cliccare! Smettetela di cliccare! Più piano! Ok! Continua a cliccare così! Smettetela di cliccare! Non è giusto! Io sto andando piano! Bene! Bene! È bello! Fermarsi un po'! Mmm! Se non fa un cavolo inveisco! Guarda! Io spero che mi diano i soldi in contanti a casa! Oh santi Dio! 14 è anni che ho provato a rendere questa maschera giusta! Ma posso cliccare più veloce adesso? Dai! Che cazzo! Thanks for playing! Giuro che vado a cercare lo sviluppatore! E lo costringo a cliccare! Spegni la tv! È giusto! È accettata un po'! Non vedrai mai più un segnale da quella tv! Va bene! Mi fa piacere! Mi dava fastidio il rumore bianco! È morta! Anche per me è morta! Morta per sempre! Come il mio polso in questo momento! Maronna santa! Siamo a 8000! 8000 sono giusti! 8000 sono giusti! Secondo me alla fine contano i clic vostri contro i clic miei! E' dalla vittoria uno dei due! Ho un prurito dietro gli occhi! Ma non riesco a fermarmi! Non riesco a dormire! Ma pruditi gli occhi! Pruditi! Amici! Io non so chi arriverà prima! Secondo me ci parteciperebbe... No io penso che alla fine metta un counter! Mi chiedo cosa direbbe mia moglie! Se mai si chiedesse qualcosa! Ho una moglie! E ho una figlia! E anche un figlio! Ah! Ho tre figli! Cazzo! Ah no! Il figlio ha tre anni! La figlia ha otto anni! Abbiamo aspettato! Che segno? Non ho capito che sta a dire! Ormai ho perso la cognizione del tempo! Era un sogno! Io mi sogno! Ah! 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 Io mi sognero questo gioco stanotte! Oh santo cielo ragazzi! Guarda di nuovo il dipinto! Mi hai rotto le balle! Quello dell'uomo... Cegato! Allora aspetta! Vedo! Sì! Quel quadro lì! Clicca! Sto cliccando! Che a tempo non aspetti tempio! È interessante! Giusto! Ormai sono rimasti Marta e Mr. T! Ormai sono rimasti Marta e Mr. T! In vita! Ma non mi avrete! Meglio! Meglio! Avete rallentato! Avete rallentato! Vi siete presi una pausa! Bravi! Bevetevi un caffè! Fate un po'... Fate un po' di pensieri impuri! Cominciate a pensare! Ragazzi! Stiamo per arrivare agli ultimi mille! Magari tu non capisci! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Voglio vedere cosa devo capire! Fammi capire! Siamo arrivati agli ultimi mille ragazzi! Sono sempre qui per farti perdere! Mai! Mai! Cliccherò prima io! Ragazzi! Gli ultimi mille! Gli ultimi mille! Gli ultimi mille! Mi sento veramente come alle Olimpiadi! Senza essere andata alle Olimpiadi! Ho sognato questo momento! Di me che ti guardavo! Che bel sogno! Ah signora! Signora mia! I capezzoli tutti duri! Oddio! Mi si è bloccato il mouse! Maronna ragazzi! Non mi sento più le dita! Mi si è bloccato il mouse pure! Uh! Guardarti è com'è un sogno! Ma non ha più senso! Chi ha scritto un messaggio in brillo? Il grosso non l'ho visto ragazzi! Dovete soltanto spammarlo il messaggio se volete che legga! Non vuoi tenere i sogni con la tua famiglia? Madonna! Settecento! Settecento e ci siamo! Vuoi tenerli privati! Altrimenti potresti causare dei danni! Non fa niente! Ci siamo superati! Nessuno mi supera! Vorresti rompere qualcosa per i sogni! Fare in modo che si rompa tutto! Addio! Sto per morire! Potresti uccidere! Cosa che devo uccidere? È un modo di tenere vivo il sogno! Ma che sta a Dio ormai? Puoi seppellirlo quando vuoi! Ti seppellisco io tra poco! Ragazzi siamo a 600! Pensavo che non ce l'avremmo mai fatta! Eppure siamo qui! Vi prego! Ci siamo ragazzi! Siamo vicini! Siamo lì! Siamo davvero lì! Eccolo! L'uomo che ci ha fatto tanto del male! Torna qui! Per gli ultimi 300 mi vuoi vicino? Sul letto! Dov'eri prima? Va bene! Sono sul letto! Fammi sedere sul letto! Eccomi qua! Abbiamo quasi fatto! Oh oh! Capo? Capo? Sì? Devi continuare a cliccare! Questo mi ammazza! Se mi ammazza giuro che vado a prendere il tizio! Veloce, lento, non ha importanza! Non puoi farmi del male! Non voglio! Niente può farmi del male! Sono forte! E' pulito! Ma perché è sempre pulito lui? E siamo soli! Bene! Mi fa piacere saperlo! Molto bella questa cosa! Ragazzi, gli ultimi 100! Gli ultimi 100! Dobbiamo finirla! Oh cazzo! No! Signore! Signore! Signore, per favore! Dobbiamo finirla! Signore! Raga, manca l'ultimo! Dobbiamo finirlo insieme! Per favore! No, raga! Ma questo si ammazza! Deve finire! No, ragazzi! Ma questo si ammazza! Non posso rimanere così! Ma si ammazza! Non posso farlo se non puoi farlo anche tu! Non farmelo fare senza di te! No, dai! Ti prego! Per favore! Non smettere di cliccare! Ma questo si ammazza! Sì? Ho finito? Grazie! Ma io i soldi li prendo! Ma io i soldi li prendo! Guarda che non è finito! No! L'hai ucciso! Ma io che ne sapevo? Cioè, che ne sapevo che lui si sarebbe ammazzato! Però io i soldi li prendo! Forte e pulito! Dio, ragazzi! Mi fa male tutto il braccio! Chi ha detto alla fine? Ha detto grazie! Voglio solo i soldi! Mi stavo chiedendo la stessa cosa! Cosa? Voglio anche io un bonifico! Quello è morto e tu pensi ai soldi! Ho capito! Ma io mi sono rotta un polso! Aspetta i titoli che continua! Pensi che devi dire da morto? Vabbè, è morto! E li posso rubare dai pantaloni! Così ci si senti a farsi le pippe! Ragazzi, è vero! È questo che sentite ogni volta che guardate un porno! Non vorrei capire! Sì, ma quanta gente ha fatto questa roba? Scusatemi! È un gioco molto piccolo per essere così lungo di persone! Li voglio anch'io i soldi! Grazie! Bravo! No? Niente! Ancora non è finito! Spero che il lascimento sia un mouse! Spero che me ne diano uno nuovo, vi prego! Voglio i soldi! Ma sono i miei! Sono io che ho cliccato! Voi avete cliccato su su e invio! Lasciatemi stare! Sono miei i soldi! Oh! Beh, circa, se ti lasci proprio andare! Pronto? Finito? Le pensa i soldi con un cadavere sul pavimento! Vabbè, ma è morto! Che posso far più? Prego! Patrons, va bene? Ok, sono nostri! Ma qualunque vostri? Ma chi ve l'ha mai detto che sono vostri? Quelli erano i miei! La proposta è fatta a me! Mica a voi! Grazie a te per aver giocato! Ma si figuri! Guardi, grazie per essere stato qui! Passi i figuri due volte! Sì? Si divide! No! Vi do al massimo 5 euro! I soldi sotto il letto! Miei! Dai, mi soldi! I soldi! No, ragazzi, cosa vuol dire? Capo! 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 No, ragazzi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quanti ne devo fare ancora? No, vi prego, non altri 10.000! Non altri 10.000! Mi ammazzo, eh! Non altri 10.000! Staremo qui per sempre! No, 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 no! Io ormai, ormai leggo Dick, 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 Dick! Non leggo nemmeno click! Leggo Dick, 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 Dick! Ma il quadro demoniaco? Non lo so! No, dai, arriverà mille! Arriverà mille! Ti prego! Così stai proiettando? Che sto proiettando! Cos'è? No, ragazzi, ma cosa... È diventata la TV! I Dick! Eh! Nel Q! Oh, Santi Numi! No, ragazzi, ma... A mille click arriva l'FBI! Ma non penso che nessuno sa che... Nessuno sa che siamo qui! No, raga! La mia pazienza dice no! Ma io vorrei capire! Cioè, ma veramente vogliono che arrivi a 10.000? Cioè, vogliono che arrivi a 10... Io faccio sedere Bellotta! Io faccio sedere Bellotta! Bellotta, io devo farne altri 10.000! Ti prego, aiuto! Io faccio fare a Bellotta! Ma che è sta roba? Che è sto problema di fonte? No, no, ma non ce la posso fare... Anche perché poi non mi ha fatto vedere i vostri a cosa servono! No, ma mi serve una pausa! Devo prendermi un caffè! Vi prego, qualcuno chiami... Ma anche noi! Io me ne vado! No, no, dove vai? No, ma voi non dovete cliccare, eh! Se non volete cliccare più! Prova a vedere il quadro! Eh, ragazzi, è luminoso! Sta apparendo qualcosa! Fra l'altro sento dei rumori! Non lo so! Ormai è solo Marta quasi rimasta! No, ma raga, ma voi pigliatemi una pausa! Io voglio capire soltanto se me ne devo fare veramente 500! Dammi una mano! Chissà se mi sente quell'altro! Aiuto! Come fai a spumare così in fretta? Sto morendo! Non si fa con l'autoclicker! È da falsi! È stato bello adesso... Ah? Non lo so! Non so nemmeno se a 10.000 funziona! Prova a cambiare posizione! E cambiamo posizione! Tu continui a cliccare, va, va! Cambia posizione! Effettivamente il quadro si è illuminato! Però non... Sì, si vede qualcosa, ma non lo riesco a vedere! Vorrei capire! No, bellotto, non ti preoccupare! Finisco io di cliccare su questi marpioni! Vai, vai! Grazie mille per il sostegno! Ce la fai ad arrivare almeno a 2.000? Che così ne faccio 8.000 io! Ma posso uscire? Scusa... Come si esce? Pronto, mamma? Ragazzi, non ho più il mouse! Ok, ho un mouse! Ok! Si fermi! No, 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 sono fuori! Grazie! No, non ho capito! Non ho capito! Non ho capito se devo fare qualcosa oppure no! Perché ho... Prova a cliccare il quadro! Non me lo fa cliccare! Non mi fa cliccare il quadro! Eh no, non mi fa cliccare il quadro, raga! Per questo vorrei capire! Cioè, perché qui non mi fa... Ragazzi, siete voi! Siete voi! Nessuno mi vede finché non voglio che mi vedano! Aspè, posso vedere tutti i vostri clic! Glonoa 1677! Waven 280! Ho preso la loro attenzione e me la tengo fin quando posso essere in possesso! Power Muffin 21! Ragione 1 solo! Poracci! C'è Juno! Nick! Federico che ne ha fatti due! Snow Penguin! Dove sta Marta? Che Marta avrà fatto il world record di... Dove è Marta? Non c'è Marta! Dove è Marta? Non la vedo! Vabbè, questo qui comunque si è rovinato la vita con i clic! Dove è Marta? Ma sono sempre esclusa! Ma non ti vedo, infatti! Perché non ci sei? Il counter di Master sta salendo! Il counter di Marta! 1812! Eccoti lì! Dove è Tabula? Sì, signore? Cosa vogliamo fare? Dobbiamo arrivare... Dimenticherai anche che mi hai incontrato! Ma quello che clicca... Non si dimentica mai! Non dimentichi niente! Oddio! Non... Per forza! Porterai un pezzo di me per sempre! Guarda, grazie! È come se avessi accettato! Così come io porterò un pezzo di te per sempre! Ecco perché lì io non visito più le persone! Ma chi è lei? Ma chi la conosce? Fammi vedere un po' chi è che sta continuando a spammare! Ma Mr. T ne ha scritti 4085! 35! Cioè io pensavo... Ho detto... Ah boh Marta ne avrà fa... 1941 Marta! Mr. T ne ha fatti 4.000! E 98! Ma tutto a posto! Ciao Rabil! Comunque... Sarò qui! Clicca se vuoi! Ma... Se vuoi essere guardato puoi cliccare qui! Se vuoi rimanere solo... Puoi uscire e cliccare fuori da qui! Clicca per tutto il tempo che vuoi! Non ti giudicherò! Ok! Ma... Serve a qualcosa? Dopotutto io sono quello che guarda! Sì va bene! Ma serve a qualcosa? C'è... Oh santi nomi! Tabula 1700! Guarda quell'altra cessa! Quella è un'altra cessa! Quella è un'altra cessa! Anche lei! The Filt che è un 85 che sta salendo! Dov'è Mr. T? Sto sempre lì! 98! Guarda Mr. T che si è preso la pausa! Guarda! Marta dall'altro lato è a 2150! Ragazzi siete tutti qui! Tutti quanti qui! Io non so quanto cliccherò ancora! Ma c'è... No! Allora chissà che cosa sta succedendo! Chi ha visto questa roba! C'è altro! O sto cliccando a vuoto! Perché si sono fatte anche le 5 e 5! Io chiuderei! Sapete com'è? Vorrei capire! A un certo punto sì! Ma a un certo punto quando? Vai dall'omino! Quale omino? Non va! Non va! Tra un po'! Devo arrivare un'altra volta a 10.000! No ragazzi dovete spammarli i messaggi se mi potete far leggere perché ci sono degli stronzi che continuano a spammare! Guardali qua! Quelle due CS! Era 14.000 il massimo! 14.000! Dice che puoi cliccare finché vuoi! Eh sì! Pure io ho letto che posso cliccare finché voglio! 14.000! Perché proprio Marta? Dopo? È lento! No! Ho letto soltanto dopo! È lento! Siamo a 14.000! Che devo fare? Non mi fanno leggere i messaggi! Bastardi! Come esco da qui? Sì? No! Ok! Come... Che devo fare quindi? Siete dei cessi! Ma non vedo cosa dicono! Mio padre! Sta chiamando pure mio padre! Guarda Tabula che è arrivato a 2.000! Bastardi! Pezzi di merda! Siete dei pezzi di merda! Dov'è quell'altra cessa? Dov'è sta? Dov'è sta? Dov'è sta? Fatevi vedere! Tabula è lì! Calamity è lì! Vi vedo salire! Non vedo più Marta! C'è Clonoa! Non vedo più Marta! Da qui in poi va avanti all'infinito! Grazie! E quindi... Cioè non ci sono titoli di coda! Santo Dio! Io vi odio! Vi odio! Basta cliccare! Chiudo! Amici! Abbiamo vissuto un'esperienza paranormanna! Ma... Spero che sia veramente finito qui! Ma se torno! Dice altre 30.000! Io non vi credo né mai più! Io non vi credo mai più!